Il primo palazzetto da aprire davvero le proprie porte alla disabilità nell'intero territorio è il Palavolcan di Acireale. Raggiunto infatti un accordo con l'Associazione 104 Orizzontale, attiva e presente in città in modo davvero importante, e a cui sono stati affidati due ampi locali sotto la tribuna centrale con l'ingresso da Corso Italia. L'Associazione del Canto Suo, nella piena integrazione, dedicherà un locale alle attività sportive, l'altro alle terapie. In più curerà il verde esterno. Tiro con l'arco, showdown, ping pong, calcetto, che vedranno gli uni accanto agli altri, disabili e non. Sì, ci riserva di aprire un centro sportivo per tutti. Dicendo per tutti si dice già tutto, quindi all'interno di questo centro sportivo ci sarà integrazione e un confronto culturale anche con i cittadini, perché questo centro sportivo che noi apriremo sarà accessibile per tutti, perché ci saranno delle attività sportive idonee sia al disabile sia a nonne. Dove può partecipare la persona disabile con la persona non disabile? Ad esempio si porterà il calcetto dove può venire il ragazzo con problemi motori che può giocare insieme alla persona che ha quel problema motorio. Quindi integrazione e quindi perché dobbiamo cercare di essere vicini al territorio, come l'assessore capisce la situazione che più di una volta mi sono proposto a dire che dobbiamo fare in modo che l'amministrazione deve essere vicina ai cittadini e l'essere vicina ai cittadini è questo, il confronto, l'attività sportiva e vita per tutti. Felice dell'accordo che diventa un esempio da seguire per altre strutture, l'assessore Giuseppe Calì che annuncia anche altre novità. Il lavoro che l'amministrazione sta portando in campo in questi mesi è stato, grazie anche all'apporto dell'associazione 104, è stato quello di cercare di abbattere ogni barriera mentale. Prima ancora di abbattere le barriere architettoniche dobbiamo imporci questo, perché a volte l'idea comune purtroppo rende la nostra società ancora più inaccessibile rispetto a quelle che sono le barriere strutturali. Questa è appunto un'occasione che stiamo avendo per poter avere finalmente curate le albuole dalla parte del Corso Italia. L'associazione 104 si farà anche carico tramite i propri soci di curare e sappiamo già che lo faranno con il massimo della dedizione e della cura proprio tutte le albuole, donando anche tutto un altro decoro alla struttura stessa, struttura che in questi ultimi tempi è stata anche al centro di tanta attenzione da parte dell'amministrazione. Vediamo che a breve vi sarà la sede del Lussi, la sede regione del Lussi, la stampa sportiva italiana. Vi sono tantissime migliorie, sono state fatte tantissime migliorie sulla segnaletica orizzontale, sulla segnaletica verticale e tanto altro ancora a breve verrà realizzato. Stiamo cercando di curare e di organizzare la cura del verde, stiamo cercando di organizzare e di curare al meglio la pulizia del palazzetto, questo qua per poter dare il maggior servizio alla nostra collettività, alla nostra gente e soprattutto a quelle società sportive che ne fanno uso.